Un anziano di 86 anni, originario di Vallo della Lucania ma residente ad Agropoli, è stato assolto con sentenza emessa dal togado del Tribunale Pantaleonino, Domenico Valerio Ragucci. L'uomo infatti era finito sotto processo per i fatti risalenti al 4 aprile 2022. Al culmine di una lite con il proprio badante, di origine straniera, secondo quelle che furono le ricostruzioni dell'accaduto, apparirono anche armi quali bastoni e coltelli. Il movente di questa lite fu legato appare anche al consumo di alcol del badante. Infatti in quella sera di inizio primavera, nell'appartamento nei prezzi di via San Francesco, un'arteria viaria prospicente al centro cittadino, nei prezzi del porto turistico, furono ritrovati alcuni brick di vino nella stanza dello straniero. E, alla vista degli stessi, l'86enne, allora 84enne, decise di rimuoverli per portarli via. Una scelta che avrebbe scatenato la furia del badante, cioè in preda ai fumi dell'alcol, che ha iniziato a colpire con violenza l'uomo, tanto da essere divenuto necessario il ricovero in ospedale, a causa di un trauma cranico riportato nella colluttazione, durante la quale sono spuntate le armi precedentemente citate. Il gran baccano, suscitato dalla lite, nella quale anche il badante rimase ferito con un coltellino utilizzato per sbucciare la frutta, indusse i vicini di casa ad allertare i necessari soccorsi e i carabinieri della compagnia di Agropoli, i quali dovessero faticare non poco per placare gli esacerbati animi. Di qui la lunga querelle giudiziaria, con il prologo di alcune minacce che sarebbero state inviate dalla badante al figlio dell'anziano signore di Valo della Lucania, chiamato in causa durante la lite per ricevere un immediato aiuto, che non fu poi potuto essere messo in pratica, in quanto al suo arrivo la lite ebbe già preso una piega irrimediabile. L'anziano, che necessitava di assistenza a causa difficoltà nella dambulazione, in seguito si rivolse quindi all'avvocato Marco Nigro per far valere le proprie ragioni dopo aver sporto regolare denuncia ed anche per difendersi dalle accuse della controparte, dato che anche il badante finì al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Valo della Lucania. La vicenda giudiziaria è quindi poi proseguita per due anni, sino al verdetto, per l'86enne di Valo della Lucania pro scioglimento da ogni accusa, in quanto il suo agire è stato giudicato per legittima difesa. E per il badante, impossibile procedere per l'autorità giudiziaria, in quanto lo straniero, allo stato attuale delle cose, ha fatto perdere le proprie tracce.